Dopo il pareggio di Forlì, il Mantua doveva e voleva ritornare al successo con una prestazione convincente e così è stato, a fare le spese in Franciacorta, secondo gli addetti ai lavori, la squadra che più di tutte potrebbe mettere il bastone tra le ruote al Mantua. Dopo sette giornate di campionato, il divero è di 12 punti e alle spalle di Biancorossi c'è una lunga lista di pretendenti, a partire proprio dal Fiorenzuola, che è proprio la squadra di Mr. Brando. Mi fa piacere per loro, nel senso che lì ho tante persone care, tante persone amiche, sono contento da una parte, poi lo stesso discorso che si faceva nelle ultime settimane, a me deve interessare e interessa, sinceramente molto poco di quello che succede dalle altre parti, quello che è la classifica, mi concentro molto su quella che è la nostra squadra, sulle cose che dobbiamo migliorare, su portare avanti il nostro processo di crescita. Contro il Franciacorta, un primo tempo a senso unico, il Mantua sembrava giocare a memoria, con un giro palla veloce e di qualità, diversi pericoli creati, di pregiovole fatture e gol realizzati. Ad aprire i giochi è Altinier, che ne era di rigore e riceve un assist al bacio dell'ottimo Serbuti, e in girata in fila alle spalle del portiere bresciano. E poi il gol di Valentini, un centrocampista silenzioso in campo, ma sempre nel vivo dell'azione. Perfetta scelta di tempo nell'inserimento in aria, che è detta il passaggio di Guccione, che di fatto lo mette di fronte alla porta. Il Mantua diverte e il pubblico risponde a suono di applausi. Poi, tra la fine del primo tempo e l'inizio del secondo, il blackout. Due sbavature difensive consentono a Bertazzoli prima e a Berdalloni dopo di riportare il risultato in paretà. Cale il gelo sui martelli, ma un minuto dopo Bomber Guccione si procura un rigore, trasformato poi da Scotto. Per l'attaccante sardo è il decimo gol in stagione e si conferma il rebomber del girone. Ma le bocche di fuoco biancorosse in questo avvio di campionato sono in stato di grazia. Eh sì, perché se non c'è due senza tre, a fare il quarto ci pensa Altinier. Cross di Scotto e colpo di testa vincente del bomberino di Cerese, che firma il suo quinto gol in stagione in quattro gare.